La capolista turist sbanca il calise battendo dopo il barano anche dal forio per 5 a 2. Nel primo tempo gli ospiti sono molto cinici e passano in vantaggio al minuto numero 35 con esposito. Il forio pareggia una ripresa con l'Eurogoal di Mazzella il quale da 40 metri beffa il portiere ospite. In appena dieci minuti però tra il 25esimo e il 34esimo la Toris va in gol per ben quattro volte con Galliano, Gaviglia, Maiulo e Iafolla. Al 38esimo i padroni di casa realizzano il 5 a 2 ancora con Mazzella che stavolta va in gol su calcio di rigore. Perde così Ralforio che lunedì prossimo si porterà a Barano per il derby con i cugini bianconeri. Tutto sommato la squadra si è dimostrata un po' distratta in alcuni frangenti e il terzo gol è lo specchio di quello che poi si è visto durante tutta la partita. Squadra un po' sottotono, poco compatta, però si può lavorare con questi ragazzi, ovviamente con il dovuto impegno, la dovuta dedizione, però speriamo di riaffermarci.